Io sono Jeanne. Jeanne Bo. Non male, eh? Sì, è carino. A me piace molto. Ma siete in anticipo. Dovevate venire la seconda metà di agosto. No, 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 era la prima metà. Non vi metterò certo alla porta, si tratta solo di una notte. Vero, Jeanne? No, 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 non è un problema. Questo tipo mi stressa. Oh, scusi, scusi tanto. Non fa niente, sono solo in costume da bagno. Dobbiamo trovare qualcosa. Un campeggio, qualsiasi cosa. Detesto questo genere di situazioni. In quattro può diventare invivibile. A me piacerebbe che restassero. Le trovo simpatiche. Allora che cos'è per voi la Svezia? I draccarri, i vichinghi? I un olorvitfun. I un olorvitfun. Il grande vichingo dell'isola. Il più grande, il più bel tesoro che abbia mai trovato un vichingo. E come pensate di trovarlo, questo famoso tesoro? Con un metal detector. Sono d'oro i suoi orecchini, Christine, e... Ma che le salta in mente? Non si preoccupi, ora lo ritrovo. Forse è meglio passare a una frequenza più alta. Basta, non è divertente. Salve, siamo turisti e ci interessa molto il olorvitfun. Ma sei proprio sicuro che qui ci sia un tesoro? Ma certo, Jeanne, sono perfino in contatto con degli specialisti. Anche tu mi consideri un illuso? Uno sguardo profondo conferisce mistero. Gli uomini adorano le donne inafferrabili. Che facevi con quel ragazzo? Io mi ammazzo a organizzare tutto, i weekend, i viaggi. Facciamo tutti delle sciocchezze. E se io me ne fossi andato? Come tua madre e avessi lasciato tutto? Non mi hai mai chiesto cosa volessi. È assurdo. Merda! Isola di merda! Tesoro di merda! È sicura che non sia falso? Ah, ma... ma che cosa fa? Verificavo. Non si sa mai. La, 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 la... Non si sa mai.